bianco rosso verde sono i colori delle vesti degli apostoli di giacomo e filippo in realtà sotto le spoglie dei due apostoli giacomo e filippo aiaz aveva nascosto due ritratti dell'epoca quelli dei due esuli svizzera rivoluzionari giacomo i fratelli giacomo di filippo ciani e così l'immagine di le vesti degli apostoli diventano l'immagine del tricolore della bandiera italiana e sotto l'opera religiosa si nasconde in realtà un messaggio politico di rivoluzione e di attualità